La cosa bella è che questi due giovani e simpatici e bellissimi ragazzi sono arrivati qua e mi fanno Ma cosa dobbiamo dire? Cosa dobbiamo dire Nicole? Che ringraziamo tutti per i voti e per l'accesso alla finale L'ha detto lei, esattamente, sono in finale ragazzi Sono tra i tre primi finalisti di questa edizione di Bulli e Pooper Contest Nonostante anche quel tacco che si è impigliato Sì, c'è stato un piccolo problemino nella coreografia, comunque vabbè, ce la si è incavata comunque Decisamente, il pubblico ha apprezzato a prescindere Allora, come vi preparerete a questo punto per la finale? Perché ovviamente il livello là sarà altissimo per tutti Chiederemo aiuto sicuramente ai nostri maestri Gaia e Claudio per montarci sicuramente nuove coreografie sempre più belle E speriamo che il pubblico apprezzerà Giusto, guarda pienamente Conferma e sottoscrive, perfetto Ascolta, ma questa esperienza con Rita Ballerina, ormai, cioè, Nicola è la tua partner ufficiale Una routine Una routine, esatto, perché dovete sapere che Rita Ballerina balla molto volentieri con Lorenzo e viceversa E ormai sul palco si divertono Sì, sì, dai, c'è un divertimento reciproco, spero Lui mi sta odiando letteralmente, va bene Va bene Allora, grazie, ci vediamo in finale Grazie mille davvero Ciao a tutti Grazie mille davvero 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 Grazie mille davvero